Al Savini il Notaresco impatta 0-0 contro il Termoli in una gara con poche emozioni. Nel primo tempo meglio i Mollisani, nella ripresa crescono gli Abruzzesi. Ma procediamo con ordine. I Rosso-Blu arrivano da sette risultati utili consecutivi e sembrano aver trovato il giusto equilibrio. Bruno schiera Antezza con Tringali in mediana. Bonfiglio e Scipioni dietro a Belloni con Forcini e Marranconi a sgroppare sulle fasce. I Giallorossi arrivano a Notaresco nella condizione opposta. Ultima posizione in coabitazione con il Monterotondo. Dopo la sconfitta rimediata nel derby del Cannarsa contro il Vasso Girardi. La situazione complessa ha portato il presidente Montaquila a fare un passo indietro. In settimana però è stato ufficializzato il nuovo tecnico, Massimo Carnevale, a cui spetterà il compito di risollevare la piazza a sondi risultati. Dirige Francesco Dandria di Nocele Inferriore. Prima della gara i saluti del prefetto di Teramo Fabrizio Stelo, omaggiato per la riuscita dell'organizzazione in termini di ordine pubblico della gara di domenica contro la San Benedettese. L'approccio giallorosso è nettamente migliore. All'undicesimo, sul primo spunto di Gabrielli dalla destra, Hernandez arriva sul pallone, ma in caduta non mantiene bassa la sfera. Poco più tardi Vitiello prepara bene il diagonale, che si spegne sul fondo. Alla mezz'ora si vede il notaresco in avanti, Marrancone tocca per Scipioni, che calcia senza ottenere l'effetto desiderato. L'occasione più nitida del primo tempo si materializza al quarantesimo, crostagliato dalla destra per Vitiello, che lasciato colpevolmente solo alza oltre la traversa. Con le immagini di mano il centurame passiamo alla ripresa, che si presenta da subito più vivace e fallosa. Al quinto timide proteste rosso-blu per un presunto tocco con il braccio all'interno dell'area di rigore. Il direttore di gara lascia proseguire. Al quarto d'ora il neantrato Pietrantonio scambia con Bonfiglio sulla sinistra e propone al centro un pallone pericolosissimo. Prima Belloni, poi Scipioni e Dantezza non riescono a capitalizzare. E' un notaresco molto diverso rispetto a quello deludente del primo tempo. Al ventesimo fa tutto Bonfiglio, ma il diagonale non è preciso. La rapidità del numero 10 mette a dura prova la difesa molisana. Garzia rischia l'autogol, ma l'intervento è efficace. Al quarantatresimo la punizione di Pietrantonio è debole e centrale. Nel recupero è il Termoli a protestare per un intervento ai danni di Hernandez. Anche qui per il signor Dandri è tutto regolare. Al Savini termina a reti bianche la sfida tra notaresco e Termoli. Un punto che muove la classifica di entrambe. Anche qui per il signor Dandri è tutto regolare.